Tutti pronti Tutti pronti Che tu hai pensato per noi Se tutti in scena si va Una gran festa sarà Con i nostri amici Gesù Perché l'autore si è YouTube Finalmente si va in scena, si pari o si aprirà Il segreto sta nel gruppo, ognuno con la sua unicità Questa storia è la mia storia, quanta gente applaudirà Chi ti usò con la CR è proprio quello che chiede a noi Oggi si chiami a te con un ruolo che tu hai pensato per noi Se tutti in scena si va, una gran festa sarà Con i nostri amici Gesù, perché l'autore sei tu Cerca d'autore, cerca di te, di uno il suo ruolo importante perché Da protagonisti nella libertà, chi chiama o chi ama via la santità Oggi si chiami a te con un ruolo che tu hai pensato per noi Se tutti in scena si va, una gran festa sarà Con i nostri amici Gesù, perché l'autore sei tu Per cui l'autore sei tu C'è financing come fronte dieluia De un Vadipoli che i nostri amici Gesù, perché l'autore sei tu Con il V discriminato! E di noi viviamo! Grazie a tutti. 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 E allora... E... 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 Grazie.